Interviste, approfondimenti e immagini in esclusiva. Ogni settimana in edicola Il Palermo. Tutto lo sport, come non lo avete mai letto. In 64 pagine a colori, le notizie dal mondo rosanero e le voci dei protagonisti. E i tifosi VIP commentano per noi. Da Alessandro Amato a Roberto Guelli, da Pietro Ballo a Davide e Nia. Le emozioni defanno rosanero più in vista. Ma non solo, una finestra su tutti gli sport di squadre e individuali per portare a casa tua i campioni della porta accanto. Il Palermo, ogni settimana in edicola a un in Europa.